Ciao a tutti, volete guardare il video e imparare a farlo a verticale? Nah. Con questo video vorrei mostrarvi 11 esercizi che potete fare benissimo anche a casa. Vi bastano solamente due pesetti che possono essere da mezzo litro oppure da un litro e mezzo, due bottiglietti di acqua che possono andare benissimo, tonificheremo tutto il corpo con un esercizio o due per ogni gruppo muscolare. Ci sono due o tre esercizi per gli addominali, un paio per i glutei e tutto il resto del corpo. Iniziate seguendovi, facciamo 10 ripetizioni per ogni esercizio, poi potrete provare a parliamenti. Pronti? Si parte! Tra le esercizi! Buon appetito! Buon appetito! Buon appetito! Now open up, make room for me Now open up, make room for me Lose myself Inside your schemes Go for the money Not the screen You're movie star Blah, blah, blah Go the whole heart Be bigger than God Burn 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.